Non è estate a Francavilla senza i fuochi di San Franco, è stata una settimana, sono stati 15 giorni veramente movimentati, c'era anche questa paura, questo timore che non si potessero svolgere invece, tutto confermato si torna a quella che è l'evento clou dell'estate francavillese. È stata una bella estate con bellissimi eventi, l'estate non è ancora finita perché proseguiremo ancora per qualche settimana anche con il famoso e tanto atteso evento del Cenacolo Michettiano, però ovviamente adesso siamo nei giorni delle feste patronali e Francavilla e non solo attende questo spettacolo di fuochi pirotecnici. Abbiamo ricevuto delle prescrizioni dal prefetto a seguito di una riunione con il comando dei vigili del fuoco ed altre istituzioni competenti, stiamo adeguando le misure di sicurezza, le stiamo trasmettendo questa mattina con tutte le indicazioni richieste, l'autorizzazione la rilascerà il sindaco, i fuochi verranno svolti in modalità diffusa così come erano stati organizzati, le misure di sicurezza mi tranquillizzano perché ovviamente la mia priorità, come anche quella del prefetto di tutti, è quella della sicurezza dei cittadini. È di una soddisfazione anche per lo stesso primo cittadino perché a un anno dalla sua elezione può festeggiare anche con i fuochi. Sì, l'anno scorso è mancato questo festeggiamento, questa è la mia prima festa patronale quindi sono molto contenta di festeggiare anche con i fuochi pirotecnici. Si chiude comunque anche un'estate movimentata, un'estate importante per Francavilla con un boom di turisti che hanno affollato le spiagge ma non solo. È stata una bella estate, gli operatori turistici sono tutti soddisfatti, l'estate non si sta ancora chiudendo, abbiamo ancora avanti qualche settimana. Grazie a tutti.